Sembrano immagini da thriller, quando il malvivente di turno compie un reato grave e per eliminare qualsiasi traccia abbandona l'auto utilizzata per il crimine, dandola alle fiamme. Sono immagini irreali invece, quelle riprese dalle nostre telecamere in un'area nascosta di strada panoramica ardizio dopo una segnalazione da parte di un telespettatore. Due vetture, una Fiat Panda e una Nissan Micra, entrambe vecchio modello, presumibilmente incendiate e lasciate incustodite da non si sa quanto tempo. Se l'automobile Nissan appare con la parte anteriore visibilmente bruciata, mentre il posteriore della carrozzeria si è pressoché salvato, la Fiat Panda Young risulta completamente demolita dal calore delle fiamme. Ciò che è rimasto è lo scheletro dell'auto, motore sfasciato, vetri frantumati e abitacolo ormai inesistente. A bordo di entrambe sono stati ammassati pezzi di cartone polistirolo, scatoloni e contenitori di plastica avvolti da una quantità spropositata di ragnatele. Mezzi che si trovano in queste rottamate condizioni in un piccolo spiazzale che rimane sulla sinistra una volta imboccata strada panoramica ardizio. Un'area poco frequentata proprio per questo complice dello stato di abbandono così prolungato. A pochi metri da questi due relitti diversi sacchi neri lasciati incustoditi, uno ammassato sull'altro. Ognuno di essi contiene polistirolo e cartongesso, forse vigliaccamente abbandonati dopo alcuni lavori domestici.